in due, eccoli qua, Medibala e solo con nazionali e Mekissi, Medibala e Mekissi, deve essere accaduto qualcosa, fischi del pubblico due francesi di origine magrebina entrambi a picchiarsi in maniera in vera e conda, bruttissimo episodio, Medibala, eccolo qui, era l'esordio stagionale, Mekissi li ha tirato, vediamo, cercano di spiegarsi, devono essersi detti qualcosa, cosa? Uh, ha fatto Zidane Medibala, e allora è Medibala che ha provocato, devono essersi detti qualcosa che non andava, Medibala ha fatto come l'ex connazionale due volte, perché origini algerine per tutte e due, eccolo qui, spinge lui e l'altro tira la testata alla Zidane, e poi anche un pugnetto, e non ci vede più Mekissi ben abbassato.